Con un verdetto ancora in bilico, con una partita elettorale dall'esito ancora incerto e tutt'altro che prevedibile, Adriana Poli Bortone ha ufficialmente rilasciato alcune valutazioni riguardo la campagna elettorale. La candidata del centrodestra si dice grata a Lecce e alla gente della città per l'affetto che ha dimostrato nei mesi di campagna elettorale. Lo definisce un grande successo di una coalizione di centrodestra unita e compatta in uno spoglio davvero singolare e al cardiopalma che ha riservato emozioni intense e che ancora non permette di avere un risultato certo, mancando quattro sezioni per decretare la vittoria oppure il ballottaggio. La Poli scrive di non nascondere un certo rammarico, quello di non aver potuto cominciare da subito a lavorare per il bene della sua città e per dare seguito a tutte le esigenze che ha ascoltato nel corso della campagna elettorale. La richiesta della candidata Chiara chiede ora a tutti i leccesi di esserle a fianco con tranquillità e fiducia nella democrazia, così come è avvenuto in questo periodo. Sarà poi il voto democratico, dice, a consentirci di tornare a far risplendere Lecce e a prenderci cura della città partendo dalle piccole cose. Infine, un'ultima considerazione, la definisce la più importante. Le sue liste, che tanto erano state ingiustamente attaccate dalla sinistra, hanno dato una grande prova ottenendo un risultato che definisce straordinario. I leccesi hanno già scelto cosa vogliono per il futuro di Lecce, dice. Una grande città ha bisogno di un sindaco capace di ascoltare, di una maggioranza forte e unita, che possa garantire governabilità per il futuro della città. In ogni caso, quel che sia l'esito delle urne, dice Polibortone, noi siamo già vincitori, Lecce ci vuole, Lecce ci aspetta e noi siamo pronti.